Voglio dare lettura di una comunicazione che la Presidenza del Consiglio ha trasmesso ieri a mezzo mail alle testate giornalistiche, la rileggo, fotografi e cineoperatori potranno realizzare immagini nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e potranno stazionare nell'area riservata solo per il tempo necessario a tale scopo e non oltre i primi cinque minuti della seduta. Grazie. Ricordo al Consiglio che eravamo in votazione. Per che cosa? Chiede la parola. Prego. Su, su, provvedi me. Siamo in votazione, Consigliere Abbate. Prego, diamo la parola al Consigliere Abbate. Vediamo. Al di là della questione personale, lasciamole perdere le questioni personali, questo è un provvedimento assolutamente dittatoriale. Ma di che parla? Di quello che ho letto? Perché... Ma non può intervenire, Consigliere Abbate? Nel corso dei latenti... Ma è nei poteri del Presidente del Consiglio? Ma se lei da solo cinque minuti... Il Consiglio non dura cinque minuti... Ma lei non si preoccupi, queste sono le disposizioni del Presidente. Si accomodi, grazie. Allora, andiamo alla votazione. Il Presidente del Segretario Generale, è possibile? Senta, lo faccia per iscritto perché siamo in votazione. Lei ha tutte le prorogative che la legge le riconosce in qualità di Consigliere Comunale. Con uno stream che fa stifo. Faccia il Consigliere Comunale e lasci stare anche. Va bene, ci vedremo in tribunale, Bitetti. Ti porterò in tribunale. Va bene, Consigliere Abbate. Grazie. Prego.